No, l'ha fatto prima, l'ho filmato due minuti. Bravo Daniele! Bravissimo! Bravissimo, Daniele! Bravissimo! 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 Dai Daniele! Bravo! Bravissimo! Bravissimo! Gabriel! Adriano! Oh! Il fondo è Alessandro, vero? Prima lo vedevo lì in fondo. Cazzo che bravo! Non è riuscito, cioè non l'ha buttato giù Vai Dani! Ma che Olivier, ma che Olivier? Vai Dani No! Cazzo, l'ha buttato giù Vai Daniele! Girati Daniele, girati La P6, ma che è un clisino Voi? 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 Grazie a tutti. Grazie a tutti.